Amici di Legnano Web TV, continuiamo il nostro giro con gli nuovi assessori della nuova amministrazione comunale. Siamo con Antonino Cusumano, benvenuto su Legnano Web TV. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Appunto come ha detto Antonino Cusumano, ho 49 anni, il prossimo Natale 50. Sono legnanese da 20 anni, ho abitato a Milano sino a 29 anni, sono napoletano di origine e ho abitato a Napoli sino all'età di 13 anni, dove vari trasferimenti di mio papà per il Ministero degli Interni si sono ritrovati a Milano. Con i figli piccoli abbiamo deciso di cambiare metropoli e Legnano per noi era una cittadina come tante altre, sconosciuta. Ma abbiamo deciso poi di abitare a Legnano perché ci sembrava quella città che aveva proprio lo stile di vita e le dimensioni adatte per poi far crescere una famiglia. Quindi i bimbi avevano 5 anni e 2 anni, sono cresciuti e hanno fatto gli studi qui e quindi ci troviamo decisamente bene a Legnano. Ecco Antonino, qual è il tuo rapporto con la città di Legnano e se puoi anche raccontarci un po' della tua esperienza professionale. Sì, volentieri. Allora, io con Legnano ho un rapporto essenzialmente politico, visto che da quando mi occupo di politica da 3 anni a questa parte ho frequentato di più, fra virgolette, Legnano. Nel senso che per la mia attività professionale ho lavorato a Milano, mi sono occupato per 20 anni di investment banking in varie banche sia italiane che internazionali e quindi ovviamente il mio rapporto con Legnano si traduceva nel rapporto del sabato e della domenica, di vivere la città nel sabato e la domenica essenzialmente. Una volta lasciato appunto l'attività di investment banking, con l'altra nuova attività che avevo svolta avevo più tempo per la mia vita privata e quindi sono riuscito finalmente a essere coinvolto di più nella città di Legnano. Perfetto, ecco. Invece entrando più nella parte tecnica del tuo ruolo, quali sono i tuoi assessorati se puoi descriverceli un po' brevemente? Sì, sicuramente. Allora, le deleghe che il sindaco mi ha dato sono polizia locale, sicurezza, protezione civile, sport, servizi demografici e cimiteriali. Per quanto riguarda, possiamo raggruppare in una macro area polizia locale, sicurezza e polizia locale l'attenzione che noi stiamo dando a questa area è quella della legalità, nel senso che intendiamo sottolineare come l'aspetto della sicurezza urbana è un aspetto che riguarda il bene comune. Il bene comune quindi vuol dire una maggiore partecipazione di tutti nel realizzare questo obiettivo. Il problema della sicurezza urbana è un problema complesso che ha bisogno di risposte complesse, non è soltanto un problema di polizia, ma deve essere una risposta integrata anche con tutti gli altri assessorati che sono all'interno delle amministrazioni, che possono andare dallo sport che ho anch'io, ai servizi sociali, alla cultura, all'istruzione. Ecco, su questo fronte noi intendiamo operare per dare una maggiore sicurezza alla città di Legnano perché non si fa soltanto con un'opera di repressione, è di un'opera di polizia la sicurezza urbana della città. Per quanto riguarda, per quanto riconcede lo sport, il nostro motto deve essere quello dello sport di tutti e per tutti. Non ci devono essere esclusioni, vogliamo far sì che lo sport diventi uno dei momenti di crescita della città. Quindi questo si parte sia dai bimbi in età pre-scolare, quindi su questo ci sarà una forte interazione anche con gli altri assessorati per far sì che comunque grazie allo sport si abbia una diversa maniera di concepire poi la vita. Lo sport è quello che ci insegna le regole del gioco, il rispetto per l'avversario, il rispetto appunto, come dicevo, delle regole. Questi sono i fondamenti, i pilastri per l'educazione e la crescita poi anche in senso di un'educazione civica più ampia e più vasta. Perfetto, sei stato chiarissimo, ti ringrazio per questa intervista e ti faccio l'in bocca al lupo per la tua amministrazione. Crepy Loop, grazie tante a voi. Grazie.